questo è pericolo, prima è caduto, è caduto qua e lui finiti basta, chi deve venderlo che mi serve il casco, l'ho schiacciato sotto la macchina quanto? Ho comprato il portamoto con 300 euro, non esageriamo, le scritte mi durano 3 metri questa, quella lì non ce l'ho più, chi è che mette queste cose che poi mi fanno inciampare? è il contrario, il sponsor non ti paga, devi dargli il teatro, basta?